Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Come va? Spero tutto bene, spero che questo evento stia procedendo al meglio delle sue possibilità. Sto provando a concludere la EX-1 Ruin con un team che ce la fa quasi, letteralmente ce la fa quasi. Devo cercare un attimino di migliorare il migliorabile, però forse ci riesco, forse si può fare, sarebbe una grande soddisfazione per me, quindi sto provando, abbiate pazienza che sto provando. Detto ciò, di che cosa parliamo oggi? Oggi ci sono altre novità, perché come ben saprete, a partire praticamente da domani barra dopodomani, cominceranno ad arrivare tutte le nuove aggiunte presenti all'interno del gioco. Quindi ne abbiamo già discusso ieri, se ovviamente non vi ricordate vi lascerò il video qui nelle schede da qualche parte o recuperabile alla fine di questo video. Sarà un video molto breve, proprio perché vi andrò ad illustrare quelli che saranno altri contenuti che verranno rilasciati in contemporanea. Ce n'è uno che sicuramente tutti quanti già si immaginavano e quindi siamo già tutti pronti per il farming e non vedo l'ora perché io ho diversi setup da poter utilizzare e quindi, diciamo, sfruttare per questo evento, anche per carriare magari qualcuno che necessita fondamentalmente di essere aiutato, perché comunque è un evento abbastanza particolare, ovvero le co-op di Ramuh. Quindi finalmente arrivano anche le co-op di Ramuh, avremo la possibilità, per chi magari non è riuscito a farmare o comunque non ha avuto la possibilità di aver farmato Ramuh, avrà la possibilità di poterlo farmare in live. Quindi lo farmeremo in live, aiuteremo chi ovviamente ne avrà bisogno. Io comunque un altro po' Ramuh lo devo farmare, per cui va benissimo fare le co-op e comunque sia aiutarsi tra di noi. Infatti mi fa molto piacere questo evento perché appunto, come stavo dicendo, ho diversi setup da poter utilizzare sia come supporto che come DPS in base alla situazione, proprio per farmare la summon di Ramuh. Quindi non vedo l'ora finalmente di poter sfruttare e poter giocare a pieno regime, perché vi confesso che questo evento di Final Fantasy IX mi sta trattenendo molto con queste maledette armi non elementali, quindi vediamo se effettivamente con Ramuh ci possiamo divertire un po' di più. Che bello, vedi ho fatto anche la rima. Successivamente abbiamo anche un'altra campagna che nel frattempo verrà proposta all'interno del gioco, ovvero la campagna dei 77 giorni dalla release. Ovviamente il numero 7 è un numero importante per questo capitolo e quindi anche numeri simili o multipli o comunque numeri in generale che vanno ad sottolineare il numero 77, o comunque il numero 7 in questo caso, sono interessanti da scoprire e da vedere per quanto riguarda ovviamente il rilascio di queste campagne. Quindi abbiamo la campagna di rilascio dei 77 giorni, dove si potranno ottenere fino a 3500 gemme, quindi altre gemme che comunque si aggiungono al nostro malloppo. Devo dire che ultimamente il gioco è davvero generoso, in questo periodo di campagna il gioco è davvero generoso, non credo di potermi lamentare più di tanto, perché nel giro di un mese ho rifatto praticamente tutte le gemme che ho speso il mese scorso. Quindi se il gioco continua ovviamente ad andare in questa direzione, è molto comunque semplice poter recuperare magari una spesa o comunque recuperare in generale tutto quello che si è perso probabilmente in un mese, perché ovviamente chi vuole pullare in un banner, chi vuole pullare in un altro, di conseguenza perde diverse risorse. E io fondamentalmente grazie al fatto di non aver pullato, ora bisognerà vedere il banner di Sephiroth con Kugeroth per vedere un po' che cosa metteranno sul piatto, quello sarà un altro discorso e vedremo effettivamente che cosa succederà. Comunque 3500 gemme farmabili, dove verranno regalate subito 1000 gemme con login, successivamente avremo i login bonus che sono una cosa diversa, altre 1000 gemme tramite login bonus, e poi successivamente avremo le missioni correlate alle coop di Ramuh che ci permetteranno di ottenere altre 1500 gemme. E poi verrà introdotto un banner solo a pagamento, quindi uno di quei classici banner acquistabili solo con le gemme rosse, quindi 3000 o 2000 gemme rosse, che per l'appunto è questo qua. Quindi avremo praticamente le armi dei personaggi di Cloud, Tifa, Eris e Sephiroth, che saranno praticamente disponibili all'interno di questo banner. Questo potrebbe essere un banner che potrebbe valerne la pena, nel senso fare la scioppatina tattica per questo banner con la 5 stelle garantita, ovviamente, una o più 5 stelle garantite, potrebbe essere effettivamente una bella idea, perché qua sono tutti personaggi comunque molto validi, qualsiasi cosa si trova fa comunque gola e fa comunque comodo, quindi è assolutamente worth, come si suol dire, l'investimento. Quindi qui potrei effettivamente pensarci, però poi ovviamente lo vedremo nel dettaglio. E infine avremo praticamente un'altra campagna in concomitanza con quella che sarà l'uscita del nuovo capitolo, ovvero la campagna della release del nuovo capitolo. In che cosa consisterà questa release? Tra l'altro le immagini già sono bellissime. Per chi non l'avesse visto c'è anche già il trailer del capitolo nella versione giapponese in Square Enix JP su YouTube, quindi potete andarlo a guardare se vi interessa. E ci sarà praticamente un periodo di tempo limitato dove tutti i personaggi di Final Fantasy VII guadagneranno esperienze in più. E questa è una cosa molto molto buona, perché appunto essendo che verrà aggiunto anche il level K al 60, avremo comunque la possibilità di essere aiutati un pochettino con il level up di determinati personaggi. Infatti come potete vedere abbiamo Cloud, Barret, Tifa, Eris e Red che per l'appunto avranno questo bonus XP. Quindi avremo i regali fondamentalmente della release del nuovo capitolo che probabilmente saranno gemme ticket e quello che sarà, la possibilità di incontrare i nemici rari, quindi i Cactuar all'interno delle varie quest e poi successivamente avremo anche una training campaign che molto probabilmente sarà o l'ottenimento di più risorse dalle missioni training o comunque sia in generale la possibilità di essere aiutati da questo punto di vista. Quindi non ho ancora i dettagli di queste campagne ma sicuramente arriveranno presto. Quindi non vi preoccupate perché arriveranno presto. Non c'è modo e comunque non c'è anche motivo di indugiare più di tanto, quindi le notizie comunque sia arrivano. Non vi preoccupate perché le notizie arrivano e nel momento in cui arrivano io sarò il primo a condividerle. Detto ciò non c'è altro di cui vi devo parlare oggi, quindi altre novità che sono state inserite all'interno del gioco e che fondamentalmente vedremo tra brevissimo. Quindi questo è quello che ci aspetta. Spero che questo video come al solito possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate e al solito vi ricordo un pollicino, un commentino e tutto quello che mi consente di poter andare avanti. Grazie ancora per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!